Finalmente è uscito il nuovissimo aggiornamento di Halloween con un sacco di boss, un sacco di nuove armi e soprattutto una nuova zona nella mappa Ma prima di volare in partita signori io vi ricordo codice ferro e noi non ce l'avevamo che ogni 14 giorni scade nel negozio oggetti ovviamente per supportarvi al massimo E andiamo a shopparci la nostra skin ufficiale di Halloween ovvero il mitico Billy signori Andiamo a acquistarlo ovviamente col codice ferro mi raccomando inseritelo pure voi e grazie di cuore equipaggiamola per forza equipaggiamola subito e si vuole in partita Ed eccoci qua signori in Fortnite Mers Mares non so mai come si dice Halloween su Fortnite Comunque io direi di andare qua ragazzi tra l'altro hanno cambiato tutta questa zona in mappa verso Cupo Cancello e l'hanno resa totalmente Halloween Ma l'unica città completamente nuova aggiunta è Campi Cadaverici che dovrebbe essere un mix tra Landeletali se non mi sbaglio e Acrianarchici Se non mi sbaglio si dovrebbe cioè si chiamava così e vabbè in ogni caso allora piano e calma Allora io vorrei subito vincere la prima partita ma sarà sicuramente molto complessa Ci siamo tra l'altro presi il nostro amichetto Billy e ah tra l'altro indovinate un po' dove hanno messo la nuova zona di mappa Cioè Campi Cadaverici esattamente in rotaie rischiose forse l'unica città che letteralmente mi stava iniziando a piacere in questa season Perché tutte le altre mi hanno rotto letteralmente le scatole però vabbè facciamo finta di nulla no Siamo sempre i soliti sfortunati in questo però va bene va bene comunque noi non ci attacchiamo alla sfortuna Noi siamo qua per trovare un pompa perché letteralmente tre tre vampa fucile abbiamo trovato Tra l'altro c'è un player qua attaccato vabbè ah ok forse raga si trovano solo vampa Ok un fucile a pompa finalmente raga finalmente un fucile a pompa Tra l'altro potrei subito fullarmi di shield ma vorrei prima sperare di trovare tipo uno shieldone No non me lo dai uno shieldone vero se mi dovessi dare uno shieldone sarei la persona più contenta del mondo Va bene questo vanno bene questi chug che ci tiriamo subito no ok non avevo visto quella cesta raga Se dovessimo trovare qua uno shieldone piango ok godo sono più contento di non averlo trovato In ogni caso direi di andare subito a pushare perché io ciò che voglio è vincere la partita e fare un botto di kill Ovviamente provare tutte le nuove armi di Halloween ce ne sono davvero un sacco se non mi sbaglio E alcune anche vecchi ovviamente come il classico ragazzi lancia zucche di Halloween troppo troppo bello Comunque fermi qua ci stanno migliaia di persone ok fermi E' un E tipo oddio ok Ucciso uno me lo sono ritrovato riattaccato Fermi 37 No porca vacca oddio oddio No raga cos'è successo No 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 piano No come ho fatto a missarlo Fermi 68 Ok ucciso 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 Raga cos'è successo e fermi La scopa ok prima nuova arma di Halloween trovata Molto molto bella Tanto qua ci dovrebbe stare un player Eccolo 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 66 Ok il più forte No way Fermi No 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 raga Forse non avete capito Che questo non ci deve pushare Adesso Fermi ok Devo tirarmi questo raga No 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 piano Ok tanto abbiamo il mox indistruttibile in teoria Vai spacca 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 però non ce la farai Non ce la farai in tempo Mi sono almeno repullato Godo Ok qua ci stanno altre troppe persone onestamente Questa cosa non mi piace Belle le tante persone ma così sono davvero davvero troppo 120 Ucciso un altro Buono 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 Raga Qua ve lo dico si possono far 20 kill solo start Cioè letteralmente Ok Fammi vedere che pompa avevi No Ma ci sono troppe persone Oh Cos'è Che cosa sono questi robin No 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 cosa sono Mi potete spiegare cosa sono sti cosi Ho paura che esplodano Oh Ok l'abbiamo killato Cioè l'abbiamo killato Non è una persona Fermi E 99 E let's go Killato un altro Oh Mio Dio Piano È un bellissimo start Però direi Facciamoci un medikit con calma Siamo Sopravvissuti Nella nuova zona di Fortnite Halloween Quindi mi raccomando Un like ozzo Iscrizione al canale Fondamentale Fatemi sapere quanto siete casati Per questo nuovissimo aggiornamento di Halloween Che vi giuro Non sto scherzando È letteralmente Penso il miglior aggiornamento Quasi del 2024 Dopo vabbè forse quello Marvel Che in realtà è questa stagione Che è iniziato bene Che però poi non mi è più piaciuto In assoluto Quindi raga mi raccomando Un pollicione sul like Ovviamente Codice ferro Per supportarmi veramente al massimo Nel negozio oggetti E ora Tutti tutti Perché si va a fare Il bel devasto Raga Questa partita la voglio vincere subito Allora Vedo Una persona Ah questo bravo Questo sta a giocare raga Ok Sta a giocare ma non sa che è contro ferro No Capito Loro partono Gasati Questi ragazzini Uh Chiaro eh Scusa col drone se ne vuole scappare Ma tu non hai capito che Quando sei contro ferro Non puoi scappare tanto Perché ti vengo a prendere brother Ti vengo a prendere No 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 Dai ma non puoi scapparmi No way Ma veramente scappa Ma veramente scappa Dai bro Ma cos'è Ma mi sei venuto tu a pushare E te ne scappi Questo significa Non utilizzare il codice ferro Nel negozio oggetti Eh sì 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 Si nota proprio bro Mi dispiace Abbiamo raga pure uno che ci sta aspettando Quindi magari è pure un fan Quindi In caso un bacio Se ci stessi vedendo Ma ora It's time It's time to prendere una macchina E pushare quel tipo che Ci ha dato la macchina Scrausa Vabbè dimmi che si ripara per favore Sì Riparata Ok Adesso lo andiamo a prendere Raga Fidatevi me Quello lo andiamo a prendere Però Ok Là saranno spawnati I cose di Iron Man I poteri di Iron Man Buono 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 Però non ci interessano Noi raga Io voglio lancia zucche Vabbè tranquilli Che se non dovessimo trovarlo In sta partita Lo andremo sicuramente a provare In quella dopo Però Dai è impossibile Adesso Io voglio provare a killar tutti Cioè Almeno uno ce l'avrà Lancia zucche Che è andato a prenderlo No Non ti baggare Macchina che mi servi Macchina non ti baggare Che mi servi Brava Ok È rimasta in vita per noi Tra l'altro raga Hanno cambiato Un sacco Un sacco di cose Qua ci sta un player No Qua ci sta un player Ah tra l'altro È esattamente quello di prima Ah ok Il bro mi può ittare Dai spara Spara Dai no Devi Veloce Ferro 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 Furo così veloce Ok Piano 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 Devo rifullarmi raga Per forza Piano Dai spara Spamma un pochettino bro C'è un muro indistruttibile Infiniti No in realtà Non ho solamente ancora uno Ok Mi cura ancora un attimo Ficchè raga non mi pusha Questo io me ne sto nel cile Fermi Ok ok Buono 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 Dai spamma Devo ricaricare ok Appena ricarico Mamma mia questo lo distruggo Ok Bam E let's go ragazzi Un bel colpo in faccia Perché abbiamo veramente Tirato in faccia Sto colpo E killato anche questo 5 chilozze per noi 20 persone E quel boss Mi piace quel boss Voglio andare a parlare con quel boss Raga Il boss zucca E Sono sicuro che ci darà cose buone Fidatevi di me Andiamo Dove stai Vieni qua bro Vieni qua bro Voglio Oh Oh Andiamo verso il bro Perfetto Ciao zucca Re delle zucche Ah uno scelto 800 d'oro E solo due razzi No ok Questa è una scammata galattica Questa è la scammata galattica Ti prego Dimmi chiedere i razzi anche Ma non ci credo Ma no raga Ma bruttissima cosa Cioè mi ha dato Sì ok Il lanciazucca Leggendario Che mi è costato 800 doll Non è che me l'ha regalato No magari potevamo killarlo Ragazzi ci avrebbe potuto dare Non ne ho idea Però non volevo rischiare Onestamente Però raga Due razzi Cosa me ne faccio di due razzi Cioè veramente Nulla me ne faccio Vabbè Speriamo di trovare Qualcosa di decente Carino Qua in queste zone Tra l'altro qua Sfida Ciao Voglio fare un gioco con te Accettiamo Aspetta Oddio Vuole giocare con me Posso prenderlo questo No Ok Va bene Tutto nella norma Intanto fammi spaccare una zucca Merit per noi Forse c'era pure uno là fuori Ma non l'ho preso Cassa qua sopra Che mi darà 10 razzi Fidatevi di me Mi darà 10 razzi Questa cassa Adesso lo gara 100% sicuro Zero razzi Però niente Però niente Perché non possiamo prenderlo Allora 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 Qua io sto trovando altri mini Altri scudoni Un sacco di cure Ma l'unica cosa che vorrei È dei razzi E delle persone Se venisse adesso un player da me Con tipo 8 razzi Mi faremo un mega favore No Non ci sarà Quindi prendiamoci sta cesta E andiamo a pushare Ho capito Allora lanciamogli Una là Prendiamo questa Lanciamo questa Spariamo pure la scopa Nel frattempo E meglio di così ragazzi Non ci si poteva muovere D'altro sta arrivando il treno Ma Non so se ha senso prenderlo In realtà ragazzi Forse non è una cavolata prenderlo Che ci porta un po' in giro Finché non ci porta Fuori safe No 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 Ma è qua sopra adesso No 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 Corri ferro Ti prego dammi il treno Voglio il treno Give me a train Oh mio dio Ragazzi è vero il nuovo treno di Halloween No che figata raga Oh mio dio Ma guardate il muso Che figo Oh 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 Perché c'è una testa così Che devo fare No no sta per esplodere la testa Sono morto Devo scendere Ma cos'è Perché ho sta testa raga E sta per esplodere Ma che cavolo Qualcuno mi sa spiegare sta cosa Nei commenti Per favore Comunque Oh mio dio Che figata il treno Raga È troppo figo È troppo bello Oh mio dio Perché adesso ci stanno delle cose leggendarie Ok non mi trarietà leggendaria Molto carina Ok ve lo giuro che mi mette timore questo treno Cioè fa veramente paura raga È bellissimo È tipo il treno che ti porta nell'inferno Non lo so Non so come spiegarlo Però bello bello Bravo Fortnite Giù raga Io sono contento di questo aggiornamento Tra l'altro qua Bisognerebbe prendere la cesta Oddio ci stanno persone Ok questo mi puscia Fermi Ok No raga Questo è bravissimo Questo sta a giocare Questo sta al fatto suo Tra l'altro Mi ho pusciato quando arriva la safe Quindi Però potevi aspettare una Ok fermi 13 Non ho neanche preso la mia caduta Quello che speravo Ok no 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 fermi Ok Devo curare raga eh No Mi ho messo il muro Al primo Questo raga è uno bravo Questo è uno bravo E con una bella connessione A quanto pare Fermi Oddio Curri ferro Ok raga da questo dobbiamo scappare Fidatevi di me Anche perché dobbiamo curarci E il ferro Si è dimenticato Di utilizzare Di prendere Delle cure veloci Quindi ci mettiamo una vita A usare sto coso Ok Tra l'altro ragazzi Sono gli scheletri leggendari No mi sta già Mi sta già pushando il bro No 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 bro non ho tempo per pushare Non ho tempo per far nulla È diverso Oddio Siamo mortissimi Ok devo usare Un muro indistruttibile Sperare che lui Ci caschi E che pensi Che noi ne abbiamo un sacco Ok Piano eh No no mi ha messo tutto No no mi ha messo nulla invece Fermi No No Fermi Ok No 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 way raga Ma Ma ha spaccato Complimenti Lui non so neanche Riusci ad usare Lanciarazzi E se la balla Beh potevi non ballare In realtà non c'avevo cure veloci Cavolo Questa signori in realtà Ho scoperto È la seconda Vabbè macchia del mastino Teoricamente raga Dovrebbe essere la stessa città Ma completamente Modificata E ci dovrebbe pure stare Un nuovo boss Però anche tante persone Come al solito E noi abbiamo solo una pistolina Ti prego gioco Devi darmi altre armi Oltre a queste armi Che fanno schifo Lo dico io che stramoriamo No 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 23 24 si Mi manca un colpetto Sarebbe Muore Sì Subito scudone Ci sta un altro tipo qua Oddio Sta là in fondo 102 Oh mio dio Non chiedetemi come Altra kill per noi Ok Devo tirarmi subito Ancora anche questo raga Non so come son vivo Ma siamo vivi Non abbiamo neanche un pompa Tra l'altro Quindi Vediamo di trovarlo Oddio Ho sentito un lanciarazzi Ho sentito un lanciarazzi Quindi sappiamo Che questa zona In tutto questo Ho tre di vita Raga Non so come son vivo Non so minimamente Come son vivo Tra l'altro Non ci abbiamo ripeto Neanche un pompa Cosa che Vorrei trovare Il prima possibile Quante persone ci sono? No Faitate prima Tra di voi Poi venite a rompermi Le scatole a me Io non c'ho un pompa Quindi se mi permettete Di non pushare Mi fareste un grande favore Ok Questo in realtà Ci lascia subito le penne Medikit Sì No 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 Forse non avete capito Che a me il pompa Mi serve Ok Sì Ok Siamo ancora in vita Ho lasciato per lo scudone raga Che era un'altra cosa Abbastanza carina Che mi sarebbe servita Sto lasciando troppo cose Per lo scappare da mille persone Però questo medikit Ti prego Fammelo tirare Fatemi tirare sto medikit Che almeno mi torno full Nel frattempo Vi ricordo ancora Codice ferro raga Perché stiamo sopravvivendo Pun in questa nuova città E quindi Calma e piano Calma Piano e sangue freddo Allora Io direi di andarlo a pushare Per ora quello eh Perché Puoi fregare il ferro una volta Ma non puoi fregarlo due volte Quello è il nuovo boss Quello è il nuovo boss Con lancia razze appunto E tra l'altro Dicono che c'è pure un'altra arma Ovvero un pompa molto molto forte No non gli dovevi sparare macchinetta Una cosa non dovevi fare Tra l'altro Godo che non ha preso lo scudone Il bro Quindi direi che ce lo possiamo tirare Tutto per noi E ci sta pushando Eh sì raga Ci sta venendo a pushare il bro Il bro ci vuole venire a pushare Ok Sta musichetta è troppo forte Ti prego musichetta Abbassati Però è carino Mi piace Mi gusta Oddio No 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 Non pensavo fosse il boss Allora non era lui che ci sta venendo a pushare Cioè non era una persona No Aia Allora piano Guardalo là guardalo là Là c'è il player C'è il player qua raga Ok Stanno provando a killare il boss Interessante Io devo prendere questo E anche i mini raga Dovrei prendere i mini Sì presi Ok no 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 Ma quanta gente c'è raga Vi giuro ma c'è troppa gente Ce n'è davvero davvero troppa in questa zona Io non pensavo ce ne fosse così tanta Ok C'è uno che slida qua Ok Ah uno Ok l'ho distrutto No penso di avergli fatto più danno in realtà Pensavo di tarlo molte più volte Allora dove sta Tra l'altro raga abbiamo un pompa che non mi piace Se si potesse magari non usare sto pompa E trovare quello tre colpi che mi piace a me Sarebbe una cosa interessante Ok piano Fermiamo maz Oddio raga ve lo giuro È un inizio game folle È difficilissimo Troppa gente Troppi pochi maz Troppe Non male armi Dai no a parte il pompa ragazzi L'ho messi bene Solamente il pompa che ci dà un po' uno svantaggio Tra l'altro hanno ucciso il boss Oddio raga quindi c'erano altri due o tre addirittura Mi sa che ci sono ancora tre persone oltre me Tutte in questa piccola zona Oddio Quelli hanno Ok sono i guanti di Iron Man Pensavo fosse una nuova arma di Halloween raga Oh 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 Ma quello là vola? Con cosa vola? Cos'è quella roba raga? Oddio Ok quella è una roba palesemente di Halloween Comunque un player sta là E l'altro sta là in fondo Dai Non si possono incontrare 33 66 Allora Il tipo mi dovrebbe aver sentito Quello là infatti sta venendo anche lui Allora Brutta situa eh Bruttissima situa La si sta fullando Spero che L'altro abbia sentito C'è uno che sta volando No 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 È sopra di me È sopra di me Perché ha pushato me? C'era l'altra persona che dovevi pushare prima Ok Penso che il tipo Dove sta? Fermi Ma non riesco a capire Vedo la gente che vola Che fa cose Ma non li vedo Ok allora Fidatemi di me Pushare allo scoperto attualmente sarebbe una cavolata Perché Ci stanno tante persone come avrete visto E io onestamente Non lo so Non voglio pushare Perché ne sono sicuro raga che Ne distruggo uno Poi arriva l'altro e mi killa 100% Neanche riesco a completare la mia bella kill Dovrei provare un po' a scapparmene Ok dai Dai che mi hai sentito Vieni qua dietro a pusharmi Non viene Non viene a pushare Allora vado io a pushar lui Questi raga comunque li voglio killare Ti avviso questa è la gente che voglio killare Che si diverte solamente a slideare a quanto pare Non ho capito Ok 21 Potevo fargli molto più male Ma va bene comunque Ma raga ma cos'è sta roba Che tipo di un tipo che vola Vedo un tipo che vola Ma ho che uno invisibile Cioè Non c'è altra spiegazione Ok qua passi invece Ok questo non è invisibile Dai bro è il momento di fightarmi però Ti prego Non scappare Bro Vabbè niente Qua mi dice che c'è un tizio sotto Ok dovrebbe essere qua raga No non è vero Me lo pinga in avanti Ma no no raga un bug Bug per forza Non può essere una persona quella E vabbè niente Direi di prenderci Il nostro bel Classe G E si va E si vola via raga Andiamocene via Perché qua raga non c'è più nessuno 12 persone rimaste Cosa? Ma sono Sbaglio Sto partite è durata 5 minuti Ma raga ma 5 minuti in numero eh E in tutto questo Se ne sono scappati con il nostro lanciarazzi E questa cosa non va per nulla bene C'è troppa gente che sta facendo troppe kill raga Oddio Guida la L'incampo Vabbè Non so cosa sia Questa macchina è bellissima E' super bella Qua ci sono player Ti prego fightami 27 Mi sono dimenticato che non ho il pompe dei colpi 50 Ok No ah ok Ah ok no bro Nel chill proprio eh Proprio nel chill No no raga Ma che sta succedendo Mi sto Inceppando Io dovrei Ah Ma porca rigola E' il 2 contro di me Ma cosa ci devo fare Ma forse sono solo contro i 2 Ah no si fightano Adesso Dopo che hanno fightato tutto di me Tentiamo l'ultima raga Un'entrata Per il meme Nella casa Più Ambita Di tutta Campi cadaverici Non è vero raga Troppe persone Ok E questo fuori dalle scatole Così me ne parlo un po' di meno Apriamo Un fieno Abbiamo una paglia Abbiamo aperto Non una cassa Ok Ti prego dimmi che ci sia qualcosa Deve starci No Deve starci qualcosa altro Comunque questa la pushiamo tutta Full push raga Paura di nessuno Non ci abbiamo neanche scudi Frega nulla Frega nulla raga Dove ci stanno Ci sta gente qua Ci dovrebbe stare gente La domanda è dove La domanda è dove Fermi Dammi scudi Please give me scudi Ok No Un po' un passo No 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 Si No way 39 No way Vabbè Posso dire una cosa Va bene Non siamo riusciti a vincere Sto aggiornamento di Halloween Ma fidatevi Domani Nuovo video Anzi farò un video al giorno Finché non vinco Nella season di Halloween Quindi mi raccomando Un like Un'iscrizione Codice per Negozi Getti Per supportare il massimo Ci vediamo al prossimo video Bella rega